Una storia difficile di una Palermo che fu, possiamo dirlo? Sì, è una storia di una Palermo pre-strage di Capaci in cui si incominciavano a intravedere le reti di quello che sarebbe stato poi la guerra di Cosa Nostra alla città. E' la storia vera di Emanuele Piazza. Emanuele Piazza è un personaggio tutto da decifrare perché in apparenza non ha niente a che fare con l'attività di cui poi si sarebbe scoperto in seguito alla sua scomparsa. E' la storia di un agente segreto, di un operatore di servizi segreti infiltrato tra le file di Cosa Nostra nel rione di San Lorenzo. Quindi diciamo in una situazione molto molto pericolosa. Allora diciamo venne rinnegata questa sua appartenenza ai servizi? Più che altro passò sotto silenzio. Se non fosse stato per il padre, per l'Avvocato Piazza e per il fratello Andrea e l'altro fratello di Emanuele, Gianmarco, non si sarebbe scoperta la reale attività di Emanuele. I suoi cari incominciarono a investigare da subito perché la scomparsa aveva lasciato dietro di sé degli indizi molto molto inquietanti. Lui è un poliziotto alla ricerca di latitanti in giro per Palermo. E' un ragazzo che in un'altra situazione avrebbe fatto quello che hanno fatto tanti ragazzi di Palermo. Avrebbe condotto una vita da osservatore della delinquenza palermitana ma per il gusto e per il fascino di accompagnarsi sia alla Palermo bene che alla Palermo un po' più scapestrata. Se non che Emanuele aveva, come ha detto suo padre, aveva il germe dell'investigazione. Emanuele era stato in polizia, se n'era andato dalla polizia, si era congedato. Dopodiché la caparbietà nell'investigare e nel decifrare la realtà che lo circondava non lo abbandonò mai e si ripropose sotto forma di questo ruolo segreto che era quello dell'agente dei servizi. Lui è stato tradito da quello che lui pensava fosse un amico. Sì, è stato tradito da un suo amico, una persona con cui condivideva la passione per la lotta libera. Di conseguenza è anche una storia di amicizia, quella di Emanuele Piazza, di amicizia tradita. Perché l'amico a un certo punto fa parte di quell'altra faccia di Palermo che è la faccia di Cosa Nostra. L'amico in quanto sodale dei capi di Cosa Nostra viene messo con le spalle al muro e Cosa Nostra con la perversione che la contraddistingue sceglie proprio il migliore amico della cerchia di Emanuele, il migliore amico almeno in quella zona oscura in cui Emanuele si muoveva proprio per rendere più facile e agevole la trappola in cui Emanuele cadrà. La Palermo di ieri e la Palermo di oggi, cosa è cambiato secondo lei? La Palermo di oggi? Nella Palermo di oggi è cambiato il vocabolario, nel senso che c'è meno resistenza a dire la parola Cosa Nostra, dire la parola mafia. Non sono assolutamente convinto che sia un fenomeno prossimo alla sua fine.